Fatto 100, così l'ex sindaco Rinaldo Melucci ha chiamato, ha enucleato le sue 100 azioni concrete amministrative nella sua fantasia perché vi stiamo dimostrando che la maggior parte di esse sono solo favole, sono solo annunci ad effetto e ora la balla delle balle, il super pallone che esplode la grande riqualificazione del quartiere Tamburi. Rinaldo Melucci non solo la riqualificazione che già è una fantasia ma tu parli addirittura di grande riqualificazione. Anche lui è rimasto senza parole, grande riqualificazione un quartiere che è abbandonato a se stesso dal punto di vista ambientale ma parimenti anche dal punto di vista strutturale marciapiedi, manto stradale completamente dissestati, pericoli per chi cammina si cade da un momento all'altro in qualsiasi punto. Guardate qui ci troviamo per esempio, solo per fare un esempio, in via De Vincentis ed è un vero percorso di guerra. Guardate qui, guardate qui. Rinaldo, guarda, guarda, se cammini insieme a me caro Rinaldo rischi di cadere ma cadiamo insieme, cadiamo io e te Rinaldo. Guarda, guarda Rinaldo, si cade, guarda Rinaldo boom e si cade, boom e si cade. E noi non vogliamo che tu debba cadere e neanche che io debba cadere né che gli altri cittadini, anche perché tu già sei caduto prima della scadenza naturale del mandato quindi ti sei fatto male, non è il caso più di farti male altre volte. Ma guarda un po' Rinaldo, guarda, guarda immagina la vecchietta Rinaldo, immagina la vecchietta Rinaldo quando cammina, cade e si rompe il femore ora noi scherziamo ma qui c'è poco da scherzare e soprattutto Rinaldo non raccontiamo più favole ai cittadini non inganniamo più gli abitanti del quartiere Tamburi, non diciamo favole e chiacchiere su questa grande riqualificazione che non esiste. Guarda com'è ridotto il marciapiede, guarda, guarda com'è sprofondato questo misto di asfalto e di mattoni, non si capisce più niente. Bene, il 12 giugno facciamo una scelta giusta e seria, per questo chiedo la vostra fiducia. In 21 anni di attività giornalistica ho sempre lottato per Taranto, ora è il momento di svoltare, di disegnare insieme una nuova Taranto che non è la Taranto delle il punto 7, il punto della grande riqualificazione del quartiere Tamburi, ma per cortesia continua a stare zitto come hai fatto finora, certamente fai più bella figura.